benvenuti o ben ritrovati a tutti per la seconda puntata di questo nuovo ciclo di catechesi intitolato la sana dottrina cattolica in cui come già detto nell'introduzione della settimana scorsa intendo un po ecco rinfrescare un po la memoria rivisitare alcuni argomenti tematiche diciamo sempre attuali a mio avviso che ci consentano ecco di rimanere sempre radicati dentro appunto ciò che la chiesa ha sempre insegnato crede vive con fede non soltanto immutata di immutabile ma anche sempre più sempre più gioiosa sempre sempre rinnovata come diceva il grande sant'agostino tardi ti ho amato bellezza tanto antica è sempre nuova perché il nostro bellissimo patrimonio ha questa caratteristica peculiare oserei dire unica che è antico non ci inventiamo mai niente ma è sempre nuovo anche perché nel suo essere certamente antico cresce nella comprensione nella specificazione anche nel suo naturale sviluppo diceva il grande san vincenzo d'aleren con il passare del tempo quindi non c'è niente di totalmente nuovo ma certamente nel corso del tempo la comprensione e il grado anche di esplicitazione del patrimonio della nostra fede cresce ne è una prova per esempio una prova abbastanza evidente sono gli ultimi due dogmi mariani non è che la chiesa non è che la madonna è diventata ovviamente immacolata l'8 dicembre del 1854 era anche prima solo che questa verità di fede che nella bolla di proclamazione il beato pio nono scrisse essere una verità rivelata da dio quindi avente come tutte le verità rivelate fondamento nella sagra scrittura ma ancora non era stata esplicitata d'accordo quindi il che insomma non è cosa di poco conto perché una cosa che non è ancora esplicitata fino a quando non lo sia ecco si ha una certa libertà anche come dire di di dissentire nonostante che l'opinione comune o anche magari della maggioranza degli scrittori e del dottore sia differente ma una volta che poi viene formalmente dichiarata e riconosciuta da chi nella chiesa questo carisma il discorso è chiuso d'accordo ne può essere riaperto in altri contesti o in altri modi cioè dentro la chiesa ci sono molte realtà di questo genere c'è come dire un ampio certamente raggio di situazioni realtà come dire mutabili perché dipendono semplicemente dall'organizzazione umana c'è anche questo nella chiesa ma ciò che appartiene al patrimonio rivelato quello non cambia ecco quindi questo dobbiamo sempre tenerlo proprio fermo come nostro caposaldo di vita allora la volta scorsa per introdurre un po anche il senso di quello che stiamo facendo abbiamo affrontato i due grandi capisaldi della nostra diciamo così sana dottrina cattolica senza i quali non si va da nessuna parte primo che gesù è dio e secondo che gesù figlio di dio incarnato è morto in croce per noi e dice dove nasce devi fare una catechesi lunga quasi un'ora per dire queste due cose che le sappiamo fin da quando eravamo piccoli certo che le sappiamo fin da quando eravamo piccoli ma altro è saperlo altro è crederci altro è approfondire quindi vedere quello che ciò comporta no ecco sempre dobbiamo avere presente la divinità di christo soprattutto nell'argomento che cominceremo ad affrontare questa sera non lo so se riusciamo a farlo in una volta sola oppure ci vorranno più incontri qui questo circo di catechesi molto lasciato come dire certo io ci penso a quello che devo dire ci prego e cerco evidentemente di disporlo per quanto posso ma ho imparato anche da altre pregresse esperienze insomma che anche in questo caso è vero che l'uomo propone dio dispone quindi poi si vedrà dove ci porta nostro signore quindi come mettere il primo passo d'accordo allora se gesù è dio e se come dice san paolo nessuno può costruire sul fondamento diverso che è cristo qual è la prima cosa di cui sembrerebbe necessario ed evidente parlare il sacramento del battesimo il sacramento del battesimo è basilare per questo ciclo di catechesi perché spazieremo poi anche quindi magari senza un ordine sistemato vedremo un po come 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 prenderà forma questo questo itinerario no però certamente una rassegna sui sette sacramenti e sui dieci comandamenti un remake insomma ci siamo detti occorrerà farlo e quindi andate in tutto il mondo ha detto gesù che è dio ricordiamo annunziate il vangelo ad ogni creatura battezzate nel nome del padre del figlio dello spirito santo insegnate loro a comunicare tutto ciò che io vi ho osservato che io tutto ciò che io vi ho insegnato quindi qual è la sequenza c'è l'annuncio d'accordo l'annuncio della fede l'annuncio questo è la puntata la scorsa no l'annuncio cioè quello che si chiama tecnicamente secondo alcune ricostruzioni diciamo alcuni passaggi delle pistole paoline l'annuncio essenziale della nostra fede è che gesù è dio il figlio di dio fatto uomo venuto sulla terra per la nostra salvezza morto in croce per la nostra salvezza e risuscitato dai morti per la nostra giustificazione punto questa è la l'annuncio che provoca la fede e quindi chiama conversione perché la fede precede sia i sacramenti che la vita di santità i comandamenti che senza la fede d'accordo ecco perché il primo passo è sempre e la fede poi comincia chiaramente il discorso sacramentale la prima cosa se tu credi essere battezzato perché perché nella nostra santa fede divina e cattolica e noi non ci limitiamo semplicemente a mentino noi non ci limitiamo semplicemente a avere un punto di riferimento un maestro da seguire una dottrina da seguire questo ciclo di catechei si chiama la sana dottrina cattolica ecco però noi qui non stiamo semplicemente seguendo una dottrina un insegnamento una morale d'accordo o un maestro certo che gesù è il maestro ma la peculiarità della nostra fede divina e cattolica è che ciò che gesù ha fatto per noi ossia la giustificazione e la riconciliazione con dio e conseguentemente una delle grandi cose adesso lo vedremo questa sera che ci ha restituito persa dall'uomo con il peccato originale è stata appunto l'infusione della vita divina e della grazia in noi cioè noi non siamo semplicemente uomini certamente siamo uomini siamo esseri umani siamo uomini e donne certamente ma ma dal momento del battesimo in poi siamo chiamati e divenuti realmente partecipi dice san paolo della natura divina diventiamo ce l'hanno insegnato bene a catechismo figli di dio in senso stretto e vedremo anche qui perché qui c'è tutto il discorso insomma gli uomini sono tutti figli di dio sono figli di dio soltanto i cattolici in che sensi non che senso insomma adesso poi le vedremo queste cose questa sera no se il signore ci aiuta allora la chiesa adempia il suo mandato mettendo in pratica queste esortazioni di gesù che nel vangelo di matteo si trovano immediatamente prima dell'ascensione cioè il testamento spirituale di gesù quindi quello che ci ha lasciato come consegna è annunciate il vangelo battezzateli nel nome del padre del figlio dello spirito santo insegnate loro ad osservare tutto quello che io vi ho comandato io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo quindi questo è il contesto in cui ci veniamo a muovere questa sera il sacramento del battesimo e in particolare poi il battesimo dei bambini a che serve? non esiste credo cioè i sacramenti sono tutti grandi delle cose molto molto grandi il sacramento più grande è l'eucaristia il sacramento più importante dopo il battesimo è la penitenza ma dal battesimo dipende tutto perché il battesimo è la porta d'ingresso e la porta d'ingresso è anche la fonte della possibilità di ricezione di tutti quanti i sacramenti allora sappiamo che nella tradizione della chiesa tra l'altro da un certo periodo in poi hanno cominciato ad essere battezzati i bambini quindi il motivo di questa scelta è relativamente semplice e comprensibile in un contesto diffuso quasi universalizzato di fede cattolica tenuta a cercare soprattutto dopo l'editto non tanto di Costantino ma quanto quello dell'imperatore Teodosio nel 390 rese il cattolicesimo la religione dell'impero e da quel momento comincia storicamente quella che si chiama l'era della cristianità che purtroppo oggi è finita che è durata per oltre 1500 anni qualcuno è contento che sia finita io sinceramente non proprio tantissimo perché si vedono insomma i frutti di quella che è stata chiamata l'era post cristiana insomma non sono certamente raccomandabili però anche oggi la prassi del battesimo dei bambini che ovviamente deve continuare per il bene di queste creature però incontra evidentemente delle difficoltà a livello pastorale che un tempo non c'erano e tutta quanto una serie di situazioni davvero molto molto complicate quali sono, a che serve il battesimo? a che serve il battesimo? noi lo diciamo la domenica nel credo nel credo di iniceo dicendo professo un solo battesimo per cosa? per il perdono dei peccati con il battesimo vengono rimessi tutti i peccati che si trovano in un essere umano sappiamo che le specie di peccati qui stiamo facendo sana dottrina cattolica quindi mi perdonerete insomma se sono un po' proprio catechisticamente scolastico quindi sana dottrina cattolica vuol dire quali sono le specie dei peccati le specie dei peccati sono due cioè il peccato originale e il peccato attuale il peccato originale è quel peccato commesso dai nostri progenitori che sono Adamo ed Eva due uomini e donna realmente esistiti al principio dell'umanità attenzione è quindi non personaggi mitologici né racconti simbolici quel peccato che hanno commesso e che ha causato la decadenza dell'uomo la perdita di tutti quanti i doni sopranaturali e preternaturali che Dio gli aveva dato e il peggioramento anche dei nostri attributi e requisiti naturali si trasmette e si propaga appunto nell'atto stesso del concepimento questa è la dottrina cattolica questa qui nel peccato mi ha concepito mia madre dice il Salmo 50 significa che nel momento stesso in cui viene concepito un essere umano che è tra l'altro il momento stesso in cui Dio crea e infonde in quello zigote appena formato dai due gameti l'anima seduta stante avviene questa trasmissione questa come si dice questa come si dice quando una cosa è infetta è infetta un'altra cosa questa infezione d'accordo per cui l'anima umana anche la mia anima la tua anima c'è un nanosecondo in cui è un flash d'accordo meno di un flash esce purissima dall'altissimo e non fa neanche uscire purissima non fa neanche in tempo di uscire purissima dall'altissimo ma che un nanosecondo dopo è già infettata infettata si tratta di un peccato trasmesso ma non commesso il peccato originale tuttavia è una cosa enormemente seria ed enormemente grave lo capiamo indirettamente da cosa dal fatto che sia nostro signore Gesù Cristo ma anche sua madre con il peccato originale non ci hanno contratto nemmeno come dire un minimo sentore a volte noi per capire la serietà di una cosa dobbiamo fare un esempio con qualche altra cosa come si fa per esempio a prendere coscienza per chi lo desidera fare di quanto seria sia la condizione dell'uomo che ancora non è stato battezzato quindi che ancora non vive in amicizia con Dio sapete la cosa non è che ci vuole anche l'abbiamo parlato una volta scorsa basta mettersi davanti al crocifisso perché mettersi davanti al crocifisso proviamo a pensarci a che cosa serve cioè ci sono delle domande che noi ce le dobbiamo porre non per andare a fare i processi al nostro signore ma per prendere coscienza delle tante cose dice ma scusa un attimo ma ci rendiamo conto di quello che è successo al figlio di Dio fatto con uomo duemila anni fa una sofferenza anche quella che si vede non parliamo di quella che non si vede esteriore inaudita d'accordo degradante straziante dolorosissima infamante umiliante ma che cosa è successo per cui era necessario dice Gesù che il figlio dell'uomo patisse in questo modo per entrare nella sua gloria ma che che sarà successo mai è successo sono stati i miei peccati diciamo nel canto popolar devozionale che si fa il venerdì santo durante le vie crucis sono stati i miei peccati Gesù mio perdon pietà o no ma tu prendi coscienza della malizia e della gravità del peccato originale attuale appunto davanti al crocifisso la gravità di quello che è successo dopo il peccato originale la si capisce soltanto studiando nel catechismo della chiesa cattolica com'era la condizione di Adamo prima del peccato originale chiaramente questo è espresso nel libro della genesi per esempio Adamo camminava tu per tu nel giardino dell'Eden che era un luogo di retizia perfetta e parlava faccia a faccia con Dio Adamo dà il nome a tutti quanti gli animali Adamo è in perfetta comunione con la sua sposa Adamo è in perfetta comunione col creato soltanto per fare qualche piccolo esempio Adamo ed Eva si dice andavano in giro nudi anche se questo è un fatto da interpretare senza provarne vergogna non c'era stato il risveglio della concupiscenza quindi l'uomo era numero uno in amicizia tu per tu con Dio quindi c'aveva come no la capacità di parlarci faccia a faccia la scienza infusa la grazia santificante questi sono doni soprannaturali poi tra l'altro questo è un accessorio diciamo così alla dottrina cattolica per chi ci crede per chi li conosce secondo le liberazioni fatte da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta il dono dei doni che comprende tutti questi che stiamo specificando era il possesso come vita interna nella sua anima della divina volontà che quanto di più grande possa esistere e possa essere donato da Dio in persona poi c'erano i doni preternaturali cioè l'immortalità non si sarebbe passare attraverso la morte né attraverso la corruzione del nostro corpo come ha vissuto la Madonna al termine della sua vita interna l'immunità dalle sofferenze dalle malattie dal dolore non avremmo conosciuto né dolore né pianto poi le nostre facoltà naturali erano perfettamente integre non solo tra donne preternaturali scusate c'era anche la scienza infusa quindi la capacità di conoscere tutte quante le cose che attingono alla necessità e alla realtà della vita terrena per esempio quanto ci mettiamo noi oggi a imparare una lingua è stata la cosa più facile di questo mondo a parte il fatto che è tuttora dimostrare che prima della torre di Babeli ci fossero tante lingue comunque tanto per dire no le realtà scientifiche insomma le discipline cioè noi possiamo imparare tante cose ma ogni cosa le impariamo a costo di tantissima fatica che è lo studio ma se tu c'è la scienza infusa quelle nozioni che tu assimili attraverso la lettura lo studio dei testi ce le hai per dono di grazia straordinario e gratuito poi le facoltà naturali erano perfette erano integre la nostra volontà aveva il perfetto dominio sulle proprie passioni non ci saremmo arrabbiati non avremmo avvertito le pulsioni negative per esempio dell'invidia del rancore soprattutto quella della concupiscenza che sembra incontrollabile che sembra una scheggia impazzita e tante altre cose la nostra intelligenza era lucidissima la nostra memoria quante volte noi sappiamo tante cose ogni tanto abbiamo le perdite di memoria non ci ricordiamo questo non ci ricordiamo quest'altro gli studenti che vanno a un esame hanno un momento di vuoto di buio ma l'avevo studiata la sapevo che la cosa in quel momento non mi veniva in mente queste sono tutte conseguenze del peccato originale tutte ora il battesimo che cosa succede con il battesimo attenzione un'altra piccola specificazione le conseguenze del peccato originale sono una cosa ma attenzione il peccato originale quando noi veniamo concepiti inerisce a me come peccato mio proprio anche se non l'ho commesso ripeto si chiama peccato trasmesso e non commesso quindi non soltanto produce gli effetti negativi ma è come se l'avessi fatto io quindi mi priva dell'amicizia di Dio il motivo di questo è che Adamo era il capostipite del genere umano e quindi ciò che viene fatto dal capostipite in quanto il capostipite inevitabilmente viene trasmesso nella discendenza questo noi oggi lo vediamo per esempio in maniera molto molto io faccio sempre questo esempio perché è abbastanza comprensibile nelle malattie genetiche cioè se è malato colui da da cui parte quindi un genitore il figlio nasce infetto non c'è niente da fare ma che colpa ce ne ha nessuna il problema è che si è infettato il genitore d'accordo quindi questa è una cosa che è assolutamente conseguente d'accordo non è che dipende ma Dio non poteva fare in modo che questa cosa non succedesse no Dio per fare in modo che questa cosa non succedesse avrebbe dovuto fare un miracolo perpetuo così come l'ha fatto una volta sola per consentire che questa cosa non accadesse alla madonna perché si era semplicemente innescato un meccanismo naturale normale d'accordo infettata la fonte cioè se tu inquini una sorgente cioè tutti quelli che vanno a tingere alla alla sorgente l'acqua non c'è niente la fa l'acqua inquinata tutta ok allora il battesimo cosa fa il battesimo toglie la macchia del peccato originale d'accordo se adulti toglie anche cancella eh tutti i peccati attuali commessi e le loro conseguenze cioè il dovere di riparare riparare e espiare le colpe commesse cooperando con ciò che in larga parte ha già fatto nostro signore con la propria penitenza e mortificazione cioè se viene battezzato un adulto lo capite il battesimo come la penitenza è per la remissione dei peccati ma starete tranquillo che se viene battezzato un adulto non gli viene detto per penitenza fai il rosario non ci sono penitenze perché il battesimo azzera cancella si dice tecnicamente la colpa quindi il peccato e la pena dovuta per il peccato piazza pulita perché il battesimo è uno solo e perché invece nel sacramento che attualizza nel corso del tempo la possibilità di ricevere il perdono dei peccati se si cade dopo il battesimo c'è la penitenza sacramentale anche qui la dottrina della chiesa chiaramente qui sto facendo riferimento non li cito ma concili su concili tra cui per esempio il decreto sulla penitenza del concilio di trento siccome gesù in croce è morto una volta sola morto per tutti una volta sola una volta sola nella vita e questo avviene in questo sacramento il beneficio della morte di cristo viene ricevuto dall'essere umano in pienezza cioè cancellazione di tutti i peccati originali attuali e remissione di tutte le pene dovute per il peccato una volta sola questo è uno dei motivi non l'unico per cui il sacramento del battesimo è irripetibile l'altro motivo per cui è ripetibile è che nel sacramento del battesimo avviene una sacra unzione con il crisma quindi viene trasmesso nell'anima quello che tecnicamente in teologia si chiama il carattere indelebile il carattere di un sacramento è una qualità spirituale chiamiamola così in greco con il segno quindi è una è come se fosse io faccio un tatuaggio sull'anima è l'immagine che a mio avviso lo fa capire un pochino meglio solo che a differenza dei tatuaggi fatti sul corpo che qualcuno dice che si possono togliere insomma con un laser il tatuaggio divino quindi sacramentale è indelebile indelebile voi sapete che ci sono purtroppo dei poveri fratellini e sorelline che sono caricati da un'organizzazione assolutamente anticristiana e non voglio neanche nominarla chi la conosce la conosce chi non la conosce meglio e che adesso questa è una brutta prassi invalsa forse ventina d'anni forse più che scrivono i parroci chiedendo di essere sbattezzati ritengo personalmente questa pratica cioè penso il peggiore dei peccati contro lo spirito santo che si possa commettere insomma peggiore e personalmente se una persona che facesse una cosa di questo genere ci dovesse ripensare fermo restando che spetta alle autorità della chiesa stabilire come farlo rientrare eccetera eccetera ma la disciplina ecclesiastica è una cosa ma quello che poi deciderà nostro signore per una cosa di questo genere non lo so insomma ecco non so che tipo di penitenza si possa fare per andare a riparare perché è di una gravità inaudita d'accordo una cosa di questo genere attenzione perché anche se quando viene fatta questa cosa qui c'è tutta una procedura particolare quindi deve intervenire alla curia perché l'unica cosa che si può fare è annotare sul registro dei battesimi che questa persona ha manifestato la volontà di non avere più niente a che fare con la chiesa cattolica e quindi deve essere considerata la chiesa cattolica come un estraneo come se non fosse cattolico ma il potere di togliergli il battesimo non ce l'ha nessuno non può essere tolto il battesimo questo però non significa che chi ha voluto fare una cosa di questo genere non abbia fatto un attentato diciamo così gravissimo contro il sagramento che è costato a Gerce perché tutto dipende dal battesimo capite cioè il grosso debito che Gesù ha dovuto pagare il motivo delle grosse sofferenze è stato al 90% per il peccato originale diciamo adesso io sparo una cifra insomma però per far capire forse sarà stato all'80 al 70 adesso non ci sto nella mente di Dio però tutto quel patrimonio immenso di dolore principalmente è stato causato dal peccato originale perché i peccati tutta quanta la valanga di peccati che poi commettono gli uomini in una condizione come la nostra noi non possiamo immaginarci come era la condizione di Adamo cioè capite cioè fare un peccato in quelle uno solo e con queste conseguenze in quello stato in quella condizione appunto per la pienezza di doni che ci aveva Adamo è salvato perché è un essere umano perché se fosse stato un angelo non ci sarebbe stato ritorno il fatto che era un essere umano quindi aveva la possibilità il principio dell'imperfezione quindi di non rendersi perfettamente conto delle conseguenze terribili del suo atto è stato il principio della possibilità della sua e della nostra salvezza altrimenti sarebbe stata la fine ma di una gravità inaudita quindi andare ad affare un attacco frontale contro il battesimo con questa pratica barbara signore abbia pietà e misericordia insomma quindi queste certamente sono considerazioni mie personali ripeto insomma in cose in istituzioni di questo genere se qualcuno ci dovesse ripensare spetta veramente all'autorità ecclesiastica stabilire percorsi cammini come quando uno diciamo così si converte perché adesso è diventato testimone di Geo e quindi ritorna indietro ci sono tutta una serie di procedure di cui purtroppo non sono esperto perché non sono un canonista ma che la Chiesa stabilisce perché sì ti faccio certamente rientrare molto di prendere le distanze da questa cosa di evitare dei segni di ventimento di vire inserirti facendo a volte anche degli atti pubblici di professione insomma di fede dinanzi alla comunità cristiana eccetera eccetera no quindi se si battezzano adulto è zero se si è attenzione quindi vengono rimessi tutti i peccati ma non solo questo perché quello che il battesimo restituisce agli esseri umani abbiamo perso tutto col peccato originale una cosa può essere restituita da subito cioè la grazia santificante e l'infusione delle virtù teologali fede speranza e carità e in germe di tutte quelle che poi saranno le virtù cristiane cosa fa questa grazia santificante due cose fondamentalmente numero uno infonde in noi la stessa natura divina quindi ci rende non è una favola è somiglianti con Dio figli di Dio perché la grazia non è altro che la partecipazione evidentemente in forma creata attribuita alla terza persona della santissima tenità per l'altro che è operata con lo spirito santo di ciò che Dio è in se stesso si dice che dopo il battesimo altra espressione tecnica l'essere umano ha in sé l'inabitazione trinitaria perdonatemi questi termini altisonanti ma sono quelli che proprio sono usati in teologia per esprimere queste cose l'inabitazione trinitaria le tre persone della santissima trinità per mezzo della grazia abitano nel cuore di un fedele primo secondo l'abito delle virtù teologali che sono quelle infuse che non ci possiamo dare da solo cioè non le possiamo acquisire attraverso la ripetizione degli atti e semplici sforzi umani la fede o ce l'hai o non ce l'hai la speranza o ce l'hai o non ce l'hai la carità o ce l'hai o non ce l'hai la carità così capiamo subito non è il filantropismo il filantropismo è di matrice luministica ce l'hanno anche i cosiddetti laici di oggi quindi la capacità di andare a fare opere filantropiche che ne so aiutare l'ospedale X che cura il tumore aiutare la causa umanitaria Y e Z andare a fare volontariato fare questo e fare quest'altro per questo non ci vuole l'infusione della grazia santificante per questo basta 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 molto meno d'accordo però la carità è un'altra cosa perché la carità è quella virtù per mezzo della quale noi amiamo Dio attenzione con tutto il cuore con tutta l'anima e con tutte le forze quindi siamo messi in un rapporto personale intimo e d'amore con Lui e amiamo il prossimo attenzione non soltanto come dire per ragioni filantrofiche ma amiamo il prossimo per amore di Dio quindi con la perfezione che l'amore di Dio richiede e che Gesù ha esplicitato nel Vangelo come io vi ho amati d'accordo quindi questi sono gli effetti del sagramento del del battesimo importantissimo allora parliamo adesso in particolare del battesimo dei bambini allora battezzare i bambini è una cosa non solo molto bella ma anche molto importante ci sono alcune obiezioni facciamo subito dice ma un bambino non dovrebbe essere battezzato dice qualcuno oggi in questa nostra età post cristiana perché altrimenti tu gli imponi la religione ah bisogna lasciarlo perdere non lo battezziamo quando poi diventerà grande sceglierà lui se battezzarsi o no quindi se fare il catechismo se diventare cristiano oppure no questo è un discorso che ad una mentalità diciamo così un pochino sprovveduta potrebbe anche risultare ma questo tutto sommato no ecco però questo è un discorso assolutamente pretestuoso d'accordo e facilmente smontabile perché se vogliamo proprio essere fiscali dice ma un bambino un domani e qualcuno lo fa potrebbe prendersela con te non soltanto perché l'ha fatto battezzare ma perché l'ha fatto venire al mondo un bambino non è che chiede di venire al mondo un bambino al mondo ci viene se i genitori in essere una serie di atti che consentano al bambino di venire al mondo ma non l'amica ha chiesto lui se uno si mette ad applicare questo principio in maniera assolutamente rigorosa e coerente non li facciamo più i bambini perché tu stai violando come dire la libertà di una persona perché lo fa venire al mondo senza che lui te l'abbia chiesto allora battezzare un bambino ed educarlo cristianamente sapendo noi d'accordo perché qui il discorso è abbiamo visto la volta scorsa cioè noi fedeli cristiani cattolici tra l'altro non lo imponiamo a nessuno questo è un altro discorso ma crediamo fermamente quindi lo annunciamo a tutti e lo proponiamo a tutti che con noi è successo un fatto particolare Dio è venuto sulla terra Dio si è fatto uomo abbiamo visto la volta scorsa non è che noi abbiamo cercato lui ma lui che ha cercato noi quindi la pienezza della santità della verità e del bene l'abbiamo nel cristianesimo quindi se tu doni a tuo figlio il battesimo tu gli fai il regalo più grande che possa esistere è chiaro che lui poi crescendo dovrà riconoscerlo come tale e regolarsi di conseguenza ma tu specialmente se ti sei sposato in chiesa già il giorno del matrimonio hai promesso davanti a Dio di accogliere i figli che ti avrebbero mandato e di educarli secondo la legge di Dio e della chiesa questo perché perché è la cosa più saggia e più sensata che si possa e che si debba fare ripeto cioè qui stiamo parlando spero che sto parlando a persone che almeno formalmente cioè in quanto battezzate fanno parte della chiesa il fatto che questa cosa non si possa imporre a nessuno non si debba perché Dio lo sappiamo questo lo fa con tutti non vuole da nessun essere umano obbedienze forzate tutti hanno il dovere di cercare Dio e anche di avere il cuore aperto a comprendere qual è la vera religione la vera religione significa quella che contiene in sé la pienezza d'accordo e che è assolutamente e completamente vera e salvifica senza macchia senza imperfezioni e senza incompletezze noi questo non possiamo non dirlo è ovvio che gli altri potrebbero avere qualche riserva più o meno importante e nessuno per questo può fare il finimondo ma noi di questo non possiamo avere dubbi nel cuore quindi regalare il battesimo a un bambino non viola nessun suo diritto ma anzi gli dà il dono più grande che potrebbero ricevere perché ancora più grande del dono della vita è il dono della fede perché il dono della vita come dire abilita una creatura a vivere la vita terrena il dono della fede abilita una creatura a vivere una grande vita terrena aperta al dono della vita eterna perché non siamo stati creati soltanto per questo mondo ma anche per l'altro quando fare questo regalo del battesimo ad una creatura perché oggi questo lo dissi e lo ribadisco è in valsa la prassi di dilazionare il tempo del battesimo io ho sempre pensato ovviamente attenzione cominciamo a circostanziare questo è un pensiero che riguarda una realtà oggettiva ma chi si comporta in questo modo è assolutamente ben lungi dall'esserne consapevole cioè dilatare nel tempo il battesimo è spia di una calo grosso e di una perdita qualitativa della fede se uno crede che il peccato originale inerisce all'anima come proprio quindi quel bambino quell'angioletto tanto bello non ha in sé purtroppo la grazia santificante non ce l'ha ma purtroppo si porta dietro questo sigillo maledetto perché il peccato originale purtroppo è la fonte diciamo così della nostra schiavitù al demonio è il suo marchio è il suo sigillo capito il motivo per cui il diavolo fa il gradasso anche oggi e c'ha tutta quanta quella spocchia quell'arroganza che ha è che lui non è che sbagliandosi sapeva che se cadeva ad amo lui sarebbe stato il padrone del genere umano perché tutti quelli che nascono nascono come suoi come suoi non vuol dire che sono indemoniati come la Reagan la bambina Reagan del film l'esorcista di William Franklin d'accordo ma anche se non si vede e anche se questo non toglie l'innocenza personale del bambino non c'è niente di più innocente di un bambino però lì c'è il peccato originale allora io tante volte scherzando ma non scherzando sapete quando molte volte il gioco e l'ironia può diventare un modo con cui si fa passare un concetto che essendo talmente oggi tanto lontano e avulso dalle 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 teste diventa difficile trovare il modo di dirlo senza mancare al rispetto alla carità nei confronti del prossimo allora quando dice dico scusa un attimo un bambino appena nato è tutto sporco di sangue di liquido amniotico di placente insomma io non lo so perché non ho mai visto un parto ma presumo che sia così dico mi hanno riferito anche questo non ho visto direttamente che un bambino insomma appena esce lì la prima cosa che gli fanno lo lavano e poi lo presentano alla mamma perché è tutto quanto impresentabile beh dico il bagnetto appena nato glielo facciamo subito dico ma attenzione tu pensi che l'anima di quella povera creatura stia messa meglio di quel corpicino che esce così tutto quanto poverino provato e sporco dai travagli del parto purtroppo no sarebbe una cosa ragionevole che tu il bagnetto glielo facessi dopo cinque mesi penso che nessuno sarebbe così folle da andare a fare il primo bagnetto al bambino dopo cinque mesi eh ma allora sarà una cosa ragionevole fare il bagnetto all'anima dopo un anno qui c'era la tradizione antichissima e tra l'altro avallata dal fatto io ho conosciuto persone che me l'hanno raccontato l'ho detto anche in altre catechesi del battesimo e addirittura entro le 24 ore il catechismo di San Pio X d'accordo che certamente adesso è stato sostituito dai nuovi catechismi però capite un catechismo rimane sempre un documento ecclesiastico come dire che ha una validità che va oltre anche diciamo così il suo tempo di vigenza in senso stretto d'accordo raccomandava di battezzare i bambini il più presto possibile preferibilmente entro i primi dieci giorni di vita e c'era una pia tradizione che se lo riusciva a fare entro 24 ore oltre a fargli un grandissimo regalo al bambino si liberava anche un'anima del purgatorio io ho conosciuto un'anima non vi dico dove ma l'ho conosciuta che mi è venuta a dire guarda se vai a vedere il registro del mio battesimo vedrai che sono state battezzate il giorno dopo perché mia mamma sapeva questa cosa e ha chiamato subito il serodote per il battesimo perché voleva farmelo non solo presto ma entro le 24 ore ora certamente pur con oggi si è riscoperta l'importanza del battesimo in parrocchia eccetera eccetera ma capite io sono parroco insomma se una famiglia non va a parlare del battesimo del figlio ecco adesso per esempio dico subito nella nostra diocesi sta partendo un progetto molto molto bello in cui come dire inizio ideale sarebbe che una famiglia come dire comincia ad andare a farsi due chiacchiere con il parro che magari è un percorso di reparazione non dopo che il bambino è nato prima si può fare il battesimo in parrocchia per carità è una cosa sacrosanta dice vabbè non battezziamo più i neonati perché il battesimo in ospedale come dire è limitato perché non c'è il legame con la comunità cristiana per carità discorsi più che accettabili hanno un loro valore una loro importanza d'accordo va bene poi devono fare la preparazione va bene in questi tempi per carità perché parla dopo facciamola prima no aspetti un bambino che aspetti che nasce vai dal parroco e dici senta padre nasce questo bambino noi avremo il desiderio che andiamo a partorire usciamo dall'ospedale e subito facciamo il battesimo tutto quello che dobbiamo fare la preparazione tutti quanti i colloqui facciamo tutto prima d'accordo finito capisci cioè che qualcuno dice ah ma se tu fai il battesimo troppo presto e poi la preparazione e poi devi rimersionare gli ospedali a tutto c'è una soluzione io però mi chiedo mi chiedo qui vorrei essere subissato dai mail quanti papà e mamma oggi prima che nasca il battesimo prima che nasca il figlio scusate vanno dal parroco a dire padre mi faccia questa gentilezza io posso dire come dire con stato questa cosa qui con dolore molte volte si procrastina il sacramento del battesimo perché dobbiamo stabilire il ristorante non troviamo posto al ristorante poi c'è il padrino X o la madrina Y che non possono venire che vivono qua allora cioè anche qui no cioè i genitori dipende tutto dalle motivazioni profonde dei genitori e anche da quantuno tempestivamente si fa ma capite se uno crede fermamente questo e crede anche che è importantissimo cioè quando parleremo della penitenza io vorrei un discorso molto semplice d'accordo cioè quando uno ha la fede se uno ha la fede i peccati mortali non si devono fare e vedremo che si possono non fare è un peccato perché un peccato per essere mortale richiede la piena avvertenza e il deliberato consenso quindi uno può anche fare una cosa grave ma se non se ne rende conto che una cosa è grave che il peccato non è immortale d'accordo comunque non anticipiamo ma quello che possiamo dire è se una persona ha fatto un peccato grave ma è una cosa sensata saggia santa dire ah vabbè quando mi ricordo mi confesserò no che non lo è perché se una persona ha commesso un peccato grave è bene senza farsi prendere chiaramente l'ansia o cose di questo genere che però si vada a confessare il più presto possibile non tra dieci anni perché fermo restando le situazioni soggettive che soltanto Dio conosce se veramente quel peccato grave fosse mortale e vedremo che la 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 qualificazione ultima di questo può dare soltanto Dio perché noi non possiamo avere la certezza assoluta di questo né in un senso né in un altro ma se Dio non voglia quello fosse un peccato mortale e tu non ti sei pentito e non hai avuto la soluzione ma tu rischi la dannazione capite un bambino cioè non è noi non sappiamo dobbiamo sempre pensare un'altra cosa che le conseguenze del contatto con il male con la M maiuscola noi non le conosciamo cioè io faccio un peccato grave perdo la grazia cosa produce questa cosa dentro la mia anima dentro la mia vita non lo sappiamo la presenza del peccato originale dentro l'anima di un bambino neonato cosa produrrà qualcuno sa rispondere a questa domanda io no sicuramente niente di buono questo penso che si possa dire senza nessun problema c'è tutta quanta la questione muore un bambino senza battesimo sono usciti dei documenti dalla santa sede ma non magisteriari in senso stretto che hanno affermato la possibilità della misericordia anche per un bambino che muoia senza battesimo va bene come quando noi sappiamo che c'è stata una tradizione anche non avente valore dogmatico ma fondata su alcune asserzioni di fior di concili che fermo restando che è esistito certamente quello che si chiamava il limbo dei santi padri cioè il luogo dove si trovavano i morti prima che Gesù Cristo compisse la redenzione perché prima che si fosse compiuta la redenzione il paradiso non c'è entrato a nessuno questo non è un'opinione questa è una verità di fede discese agli inferi il terzo giorno di uscita da morte diciamo nel credo apostolico ma dopo Cristo che sopravviva il cosiddetto limbo dei bambini ci sono alcuni concili in cui si è fatto riferimento pur senza chiamarlo esplicitamente in questo nome a questa realtà ma oggi si tende a minimizzare la cosa allora questa è una materia libera d'accordo in cui non c'è non è vero che il limbo non esiste più così come non era vero che esisteva come dogma di fede è argomento libero io dico anche nella sola ipotesi che dovesse esistere e anche nell'ipotesi io penso questo è il mio opinione personale che esista ma che cesserà di esistere quando ci sarà la resurrezione dei morti perché è impossibile che è una creatura che comunque non ha colpe proprie sia eternamente privata della visione beatifica d'accordo supponendo questa ipotesi d'accordo dice non è che sbaglierebbe chi pensa che la misericordia di Dio trova il modo di far arrivare la salvezza anche ai bambini non battezzati perché la salvezza gli arriverebbe d'accordo ma se tu c'hai un sistema cioè il battesimo che gli che anche se dovesse essersi questa situazione ti leva subito quanto il problema d'accordo quindi supponiamo che non ci fosse ma se c'è battezziamo sta creatura o no un bambino muore abortito per aborto volontario peggio per aborto involontario l'anima è stata concepita il peccato originale l'ha contratto cosa dobbiamo pensare che vanno all'inferno ma assolutamente no che non c'è possibilità di salvezza questo non lo penso neanche io ma che si salvi al momento quindi che abbia la visione beatifica alla risurrezione della carne non è la stessa cosa che se l'abbia subito per cui certamente l'anima di un bambino non è come l'anima di un adulto che dobbiamo fargli dire numerose messe d'accordo di suffraggio un bambino non ha fatto niente ma se un genitore fa dire una messa secondo le sue intenzioni con l'intenzione di dire al signore attraverso quella messa queste cose sto bambino non è nato se fosse nato tu sebbene l'avrei portato al fronte e battesimare non l'ho potuto fare per ragioni che non dipendono né da me né da questa povera creatura attraverso questa messa ti chiedo di far arrivare a lui gli effetti del sacramento del battesimo che non abbiamo potuto celebrare punto il massimo che succede facciamo la peggiore delle ipotesi è che una cosa di questo genere non serve a niente sapete io questi giorni ho avuto un pochino di problemi fisici d'accordo con qualche con qualche acciacco parlo con medici e terapisti di cosa tipo ma uno mi ha detto di fare questa cosa qui ma fa qualcosa ho detto guarda male non fa il massimo che succede non te fa niente però quindi usala perché te potrebbe anche fa bene d'accordo quindi cioè che senso ha cioè noi quando ci muoviamo in questi orizzonti questo è sempre un principio di grande potenza dobbiamo sempre possibilmente muoverci in ciò che è più sicuro più certo e la testimonianza di anni e anni e anni di tradizione che va pur contemperata con le rinnovate e attuali esigenze ci produce ci procura sempre i parametri più sicuri cioè nelle cose di fede si deve sempre andare questo lo dico da sacerdote su ciò che è più sicuro per cui per anni i bambini sono stati battezzati presto perché perdere questa cosa pur contemperando le giuste esigenze della dimensione comunitaria ed ecclesiale del sacramento e della fede per anni si è creduto che esistesse il limbo perché accantonare e mettere nel dimenticatoio pur considerando l'evidente e doveroso fatto cioè è ripugnante alla retta ragione pensare che per l'eternità sia privata della visione beatifica una creatura che non ha fatto di personale niente quindi che si trova a ricevere una cosa che le ne dice come è proprio ma di cui non ha colpa ma perché rischiare di farlo stare all'imbo se esiste fino al giudizio universale perché qual è il motivo non ci sta vorrei chiudere questo discorso sul battesimo dei bambini con un'ultima nota il padrino e la madrina questo altro tema che oggi è diventato complicatissimo il padrino e la madrina sono due figure importantissime si pensi che nella anche qui nella celebrazione del sacramento secondo il rito antico parlavano solo il padrino e la madrina quindi che oggi parlano anche i genitori non va bene no va benissimo va d'accordo perché la nuova celebrazione del battesimo responsabilizza giustamente questo perché perché sono cambiate le circostanze storiche anche il compito educativo dei genitori che oggi non si prendono il compito di educare alla fede dei figli sto parlando della maggioranza dei casi ovviamente ci sono tantissime e lodevoli eccezioni allora il padrino e la madrina sono le figure che sulla fede delle quali liturgicamente viene amministrato il sacramento del battesimo per essere battezzati non bisogna fare niente l'abbiamo visto la volta scorsa per essere battezzati occorre soltanto credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio poi che la chiesa strutturi i percorsi la faceva nel passato con il battesimo degli adulti con i catecumenati c'è anche adesso il catecumenato degli adulti che il parroco ti faccia fare 4-5 conti di preparazione tutto tanto bene ma per essere battezzati occorre la fede in Cristo allora certamente il padrino e la madrina hanno un compito liturgico il loro compito è quello di realizzare una sorta di sostituzione vicaria pensate che sempre nel rito antico io qualche volta ho amministrato questo sacramento di rito antico quando vengono fatte le domande e le rinunce e la professione di fede attenzione il sacerdote chiama per nome il battezzando e risponde il padrino è un gesto bellissimo vedete la la ricchezza del veteret nuovo ci sono delle cose belle che stanno nell'antico e delle cose belle che stanno nel nuovo ma voi capite che una persona che deve fare liturgicamente una cosa di questo genere ma può avere una vita completamente astrusa di chi è la responsabilità anche qui perdonatemi in primis dei genitori perché il padrino e la madrina non si può scegliere mio fratello mia sorella eccetera eccetera c'è tutto il caos che oggi accade perché con situazioni le cosiddette situazioni irregolari problemi di ammissibilità parroci che devono stare all'etica con la gente quindi allora in parte è un problema della fonte perché sono i genitori a scegliere in parte però è un problema anche del destinatario perché tu non puoi fare una cosa di questo genere a cuor leggero la chiesa richiede per esempio che uno deve essere cresimato per fare da madrina e da madrina perché un cresimato è una persona che ha scelto di vivere da cristiano e si sforza di vivere coerentemente con questo altrimenti non dovrebbe fare una cosa di questo genere allora occorre avere questa doppia attenzione attenzione al padrino che scegliamo e attenzione ad accettare a cuor leggero l'incarico di padrino perché il fatto che di fatto la responsabilità principale dell'educazione della fede stia in capo ai genitori non toglie che capite nostro signore un bel giorno a un padrino che io posso dire che conosco un sacerdote a cui è successa questa cosa qui sono andato a riferirgli che dove amministrano un battesimo c'era una famiglia fuori e a un certo punto si sentono bestemmi cominciano a bestemmiare come turchi una persona concitata va in sacrestia e riferisce che uno dei bestemmiatori era candidato padrino del battesimo che bisognava essere amministrato dieci minuti dopo che doveva fare quel polaccio di parroco secondo voi dovevano finire su tutti i giornali è chiaro che una cosa di questo genere cioè tu genitore scegli come padrino di battesimo una persona che è un bestemmiatore abituale che non c'ha neanche la sensibilità di evitare di bestemmiare almeno davanti alla chiesa 5 minuti prima del battesimo e tu che faccia 5 minuti dopo vai lì a dire che rinuncia a satana e credi in dio padre onnipotente che è la loro del cielo e della terra che l'hai bestemmiato fino a 5 minuti prima allora attenzione no? ecco quindi ci siamo detti un pochino di cose spero in modo abbastanza esaustivo sulla grandezza e l'importanza di questo sacramento ecco forse la prossima volta lo riprenderemo per comprendere come da questo sacramento dipende la nostra dignità fondamentale e la nostra vocazione fondamentale perché la vocazione del cristiano è una sola noi siamo chiamati ad essere santi poi le vocazioni di vita attraverso le quali questo si realizza che sono il secondo step come dire per certi aspetti sono accidentali lo vedremo la prossima volta io sono prete in forza del battesimo sono chiamato ad essere un santo prete tu sei sposato in forza del battesimo sei chiamato ad essere un santo sposo una santa sposa tu sei singolo e ti pensi di essere inutile non sei affatto inutile tu sei chiamato ad essere santo i santi non sono inutili mai ma cosa sono singoli di questo ne parleremo la prossima volta appuntamento per chi crede alla prossima settimana la mia benedizione a tutti Ave Maria